La nuova nocerina, nona nel girone H della Serie D con 29 punti, parla anche Irpino. C'è Nunzio Grasso, originario di Flumeri, tra i dirigenti del club Molosso. Sarà il nuovo direttore generale, evoluto fortemente dall'imprenditore italo-americano Giancarlo Natale, con cui c'è un'antica amicizia. La prima mossa di mercato del neodirigente rosso-nero è stata portare Antonio Riccio, difensore classe 1996. 1996, Irpino anche lui, con un passato nel giovanile di Siena ed Avellino. Riccio, già nel 2018, aveva giocato con la maglia rossa-nera ed è pronto a rimettersi in gioco a Nocera. Ma ci sarà anche un altro Irpino dal passato illustre. Agostino Spica, che da calciatore ha giocato con le maglie di Fasano, Perugia e Lecce, sarà il nuovo team manager del sudalizio Molosso. Per Spica, che negli ultimi anni ha ricoperto il ruolo di allenatore a Mercogliano, Grotta, Visse, Montorese ed FC Avellino, ci sarà quindi questo nuovo ed inedito incarico per Mazze e compagni nel prossimo weekend. Sfida interna contro il Rotonda Calcio, una gara che i rossoneri vogliono vincere per rilanciarsi in classifica.